Il 14 luglio saremo a Mondavio con questo Che sia bianco, un evento fortunatamente che mette insieme tante associazioni, quindi riusciamo veramente a fare questo collegamento tra tutte le attività di Mondavio. Che cos'è nello specifico? Di che cosa si sentirà? Allora, è una notte dove tutti sono invitati a vestirsi in bianco, infatti anche questo titolo Che sia bianco. Nella fattispecie tutte le attività del luogo si sono messe un po' a lavorare per ottenere il meglio della loro possibilità, quindi ci sarà il servizio di ristorazione offerto dalla Palomba con questa cena sotto la rocca e poi via via le attività della Proloco con le damigelle che faranno questo spettacolo, il servizio anche offerto e poi soprattutto i spettacoli che abiteranno tutto il centro storico di Mondavio dalle ore 8 fino a mezzanotte inoltrata perché poi cercheremo di stare a lungo svegli insomma.